La sinfonia del tempo si rinnova e assume nuove espressioni grazie al nuovo Minute Repeater. Alla pressione del pulsante vengono scandite le ore. I quarti d'ora e i minuti. Mai prima d'ora è stata possibile tanta complessità in un solo segnatempo Echo Drive. Calendario perpetuo con visualizzazione di mese e data. Allarme e infine il primo Minute Repeater Echo Drive al mondo. Nel 1845 venne alla luce il primo orologio Minute Repeater. Oggi la luce grazie ad Echo Drive dona nuova vita al Minute Repeater. Grazie. 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 Grazie.